Eccoci qua, domenica 6 giugno, si prova un altro giretto. Vediamo se dopo una bella piovuta durante la notte esce qualcosa di bello. A dopo! E finalmente si apre ufficialmente la stagione con questo bellissimo rosso, guardate, un po' passato, vabbè. Però guardate, finalmente, anche qui ci siamo. Speriamo bene e apriamo la stagione. Ovviamente lo dedico a tutti i fedelissimi. In primis a Eraldo, vabbè, che aveva detto che non li avremmo trovati. Poi, vabbè, ai grande salvo, The Am, Passion, Logi, tutti voi che ci avete supportato durante la nostra crescita. Logi, ma anche Gianluigi, Sergio, tutti, 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 davvero, Emiliano. Eccoci qua, ragazzi. Finalmente, finalmente, finalmente. E noi adesso procediamo alla cavatura nel prossimo video. Ci vediamo dopo. Procediamo con delicatezza perché è comunque un fungo abbastanza fragile, però per iniziare la stagione un bel Pinophilus ci voleva. Stranamente perché di solito qua si trovano gli estivalis, però procediamo con calma. Eccolo qui. Il primo di stagione. Finalmente, ragazzi. Finalmente iniziamo. Come vedete, ragazzi, l'importanza del coltellino, quando si trovano i primi, o comunque quando si trovano i funghi, è quella di andare a pulire anche in modo molto sommario, però farlo, almeno una prima pulizia, nel bosco il gambo per, appunto, rilasciare nel bosco le spore del fungo che magari si riproducono. Perciò mi raccomando, pulite sempre sommariamente i funghi nel bosco prima di porli nel vostro zaino. Mi raccomando, è molto importante. Grazie. Grazie. Grazie.